e quindi rigetta il GIP, tra l'altro Emiliano, la richiesta di remissione interna. La Corte accoglie, va detto subito, il provvedimento del GIP di rigetto e lo fa prendendo in esame la nuova disciplina, sostanzialmente dicendo questo. Guardate che anche se la nuova formulazione non ripropone gli indici testuali che chiaramente deponevano per una presunzione di conoscenza effettiva del provvedimento, però ritornare alla originaria previsione di un onere per la parte di provare la mancata effettiva conoscenza sarebbe contrario ai principi elaborati dall'acedio, dal momento che la Corte di GIP ha sempre escluso la possibilità di pretendere da parte dell'imputato l'onere della prova dell'intenzione di sottrarsi alla giustizia o che comunque la sua assenza non dipenda da causa di forze maggiori. Quindi il soggetto non può dare una prova negativa, una prova negativa che come tale è diabolica. Quindi ancorché non escluda la Corte che la nuova formulazione sia diversa da quella precedente, nel caso specifico la Corte ha ritenuto di dover accogliere il ricorso e quindi annullare il provvedimento di rigetto della richiesta di investimento in termine, sostanzialmente rifacendo una rielaborazione della normativa per la quale ancorché il soggetto avesse eletto domicilio presso il difensore d'ufficio, questo non stava ad indicare, così come effettivamente è dato e vince la 420 bis, che il soggetto avesse avuto conoscenza del provvedimento, ma semmai del procedimento. Non avendo avuto conoscenza del provvedimento, ergo la Corte legge le nuove norme così come andavano lette quelle precedenti e quindi dice, siccome il giudice non ha dato la prova che tu conoscevi il procedimento, conoscevi il provvedimento, ecco, anche alla luce della nuova, nonostante la nuova formulazione, io ti rimetto in termine, o comunque annullo il provvedimento di rigetto di remissione in termine. Poi c'è un enunciato che è un obbiter dictum e che io non so come dire come andrà a finire, nel senso che la Corte conclude dicendo, in tale contesto perde decisivo rilievo, almeno l'ipotesi qui esaminata di elezione domicilio presso il difensore d'ufficio, la questione porta se la nuova formulazione del senso di questione del Coma comporti un'inversione dell'onera della prova rispetto allo schema precedente. Cosa voglia dire, con l'inciso, almeno le ipotesi qui esaminate di elezione domicilio presso il difensore d'ufficio, è un altro sapere, ossia, voglio dire, la Corte di Cassione sembra tenere aperta la porta, perché lo ripete più volte, alla possibilità che in altre situazioni si possa invece arrivare ad un'interpretazione diversa, che è più aderente alla norma letterale, alla formazione letterale, ma che forse porrebbe la formazione letterale in contrasto con i principi del giusto processo, così come declinato dalla... Quanto tempo ho ancora? Allora, un altro aspetto recentemente trattato è quello che riguarda, sempre al tema di decadenza del termine, qual è il termine ultimo per richiedere il giudizio abbreviato in caso di processi soggettivamente cumulativi. Qual è l'ipotesi? L'ipotesi è che il giudizio preliminare ci siano più imputati, e voi sapete che il giudizio abbreviato può essere richiesto, come dice l'articolo 400 e 392, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma di decadenza del 421 e 22, cioè sostanzialmente in zona cesarini. Il problema però non si pone se c'è un solo imputato, il difensore prima di rassegnare le conclusioni ci ripensa, sente magari che il pubblico ministero ha formulato le conclusioni ragionevole e quindi chiede il giudizio abbreviato. Il problema si è posto quando ci sono più imputati. Qual è allora il termine per presentare la richiesta di giudizio abbreviato? Qualcuno potrà dire, beh, magari ci si pensa prima, è meglio. Però il fatto che esistano diversi precedenti sta a significare che il problema si è posto, e quindi qualcuno ha posto il problema in concreto di una richiesta di abbreviato formulata nel limite estremo. Ed allora la rilevanza perché si erano formati diversi orientamenti. Un primo orientamento molto liberale è quello per il quale il termine ultimo per richiedere la giudizio abbreviato era quello in cui l'ultimo difensore iniziava la discussione. Ovviamente era la conseguenza che questa situazione accomunava tutti gli imputati nell'identità del termine estremo, fatto coincidere quindi con l'ultima discussione, l'ultima discussione dell'ultimo difensore. In consapevole controtendenza con questo indirizzo si era posto una sentenza del 2011 che diceva no, non è così, perché il termine finale è quello in cui il giudice cede la parola al pubblico ministero per le sue conclusioni. Non vi sto a spiegare l'apparato argomentativo perché non interessa chi avesse il desiderio può leggersi la sentenza. Questo aveva provocato a questo punto un intervento, ha provocato un intervento delle sezioni unite che ci sono espresse nel marzo di quest'anno con la sentenza 20.214 che hanno individuato nel processi soggettivamente cumulativi il termine finale in quello in cui ciascun difensore, per ciascun imputato, formano le proprie conclusioni. Quindi per ciascun imputato il termine finale è quello in cui il proprio difensore rassegna le conclusioni. Questa interpretazione, secondo il giudice di legittimità, è rispettosa ai diritti di difesa perché correla nei processi soggettivamente cumulativi o meglio dire, in qualche modo, evidenzia la singolarità delle posizioni dei diversi imputati. Dal momento che le conclusioni del pubblico ministero si riflettono sulle singole posizioni ancorché siano rassegnate in un unico momento. La Corte si fa carico del problema che era stato sollevato e cioè che ciascun difensore avrebbe interesse a sentire anche le argomentazioni poste dagli propri colleghi nei sede di discussione. E liquida, o comunque supera, questa obiezione osservando che l'esigenza di garantire a ciascuno degli imputati la conoscenza delle conclusioni dei difensori e degli altri non soddisfa una reale esigenza di parità perché la par condicio, dice la Corte, non si declina tra soggetti che sono accumulati in unità di parte ma tra parti contrapposte, pubblico ministero e difensore. Se io dico che il termine finale è quello in cui il tuo difensore prende la parola ecco che, come dire, do mostro rispetto del dato normativo e di esigenze, diciamo, di ragionevolezza. A questo punto poi il problema, se mi lasciate così, si scarica sul giudice perché non avrà come dire, non sarà proprio il significato dare la parola al difensore piuttosto che un altro perché è chiaro che il difensore che parla per ultimo avrà la possibilità di richiedere il giudizio abbreviato per il proprio assistito così avendo, come dire, consapevolezza delle conclusioni rassegnate agli altri difensori. Questo comunque è il quadro attuale evidenziato dalle esenzioni unite nel marzo di quest'anno. Sempre in materia di legge 67 e di restituzione in termine segnalo un profilo che è, diciamo, di recentissima immersione cioè quello che riguarda la richiesta di messa alla prova nel procedimento ordinario. Sapete che l'articolo, la legge 67, ha introdotto la messa alla prova e per farla non breve, ma brevissima, ha individuato una norma, ha introdotto una norma processuale l'articolo 464 bis che prevede che la richiesta di messa alla prova possa essere proposta fino alla dichiarazione apertura al dibattimento di primo grado nel procedimento di direttissimo o assistito in diretta nel termine indicato da 458 primo comma nel caso di giudizio immediato ovvero con l'atto di opposizione nel giudizio monitorio. Il problema si è posto per coloro che prima del 17 maggio del 2014 date in vigore della legge 67 si erano già in corsi in queste situazioni e non avevano ovviamente potuto chiedere per i loro assistiti la messa alla prova così come si può riproporre per il giudizio di appello o di cassazione. Sul punto è intervenuta un'ordinanza del Tribunale di Torino che è l'unica a quanto mi consta edita sul punto e che pur avendo riscontrato che il termine per presentare la domanda di messa alla prova era decorso ha osservato che trattandosi di norma sostanziale avendo effetti sostanziali perché il positivo svolgimento della messa alla prova ha effetti estintivi sul reato e osservando che il legislatore non aveva introdotto alcune decine transitorie perché ormai il legislatore sappiamo che si dimentica completamente di quello che succede tra prima e dopo ha sostanzialmente ritenuto di poter rimettere in termini il soggetto quindi ricorrendo all'istituto della remissione in termini individuando nella legge intervenuta dopo quell'evento processuale che avrebbe determinato la decadenza un factum principis cioè ha detto sostanzialmente tu non hai rispettato il termine perché è un termine che è già decorso il dibattimento si è già aperto l'opposizione per fare il termine per fare opposizione è già decorso però siccome la norma non è assistita da clausole di transitorie e l'intervenuta promulgazione della legge la considero come un factum principis quindi come un evento che è una causa di forza maggiore che ti ha impedito di rispettare quel termine ti rimetto in termine va detto che questo provvedimento per quanto ispirato a ragioni di giustizia sostanziale non ha incontrato il favore della dottrina è stato diciamo accolto piuttosto freddamente probabilmente ha ragione dal momento che da un primo punto di vista risulta piuttosto difficile individuare nel promulgazione di una norma il factum principis che come si dice invera la forza maggiore ma soprattutto c'è da dire che sul tema è intervenuta la corte di cassazione anche in questo caso la sentenza molto recente il 31 luglio del 2014 che è intervenuta anche sotto l'altro profilo che forse un po' confusamente era stato evocato dal giudice torinese cioè il fatto che questa norma avesse natura di norma sostanziale e quindi fosse giustificata una sua applicazione retroattiva sostanzialmente la corte di cassazione la sentenza ceccaroni fezzini feriali 31 luglio ha escluso la possibilità di applicare l'istituto della messa alla prova nel giudizio di cassazione ma oltre a questo soluzione che mi sembra scontata a luce del fatto che la messa alla prova ha una serie di articolazioni di adempimenti che sono inconcepibili per il giudizio di cassazione ha richiamato leggi interpretative della sentenza 236 del 2011 sappiamo quella sentenza che aveva ritenuto non incostituzionale la previsione della legge Pecorella che no scusate della legge ex Cirielli che non consentiva l'applicazione delle più favorevoli norme in materia di prescrizione ai giudizi che fossero già radicati davanti al dibattimento o in appello sostenendo che la interpretazione dell'articolo 7 CEDU la norma da cui si è ricavata il principio della retroattività della legge non è così forte come quella relativa al divieto di applicazione di disposizioni più favorevoli cioè il principio di retroattività della legge smizio può essere circondato dalla come dire non è assoluto ma può essere circondato da 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 come dire da limitazioni purché assistite da giustificazioni ragionevoli e da allora anche sotto questo profilo ritenere che sia irragionevole che il legislatore abbia individuato una cesura negli atti preliminari a dibattimento nella richiesta di trasformazione del rito o nell'opposizione il termine per la cesura il termine per presentare la domanda di messa alla prova non è a mio giudizio da ritenere priva di ragionevolezza vengono quindi a cadere entrambe le argomentazioni la prima quella che vuole la promulgazione della legge assimilabile al factum principis quindi a una forza maggiore la seconda che individua la messa alla prova come istituto di diritto sostanziale quindi necessariamente tale da dovere avere una applicazione retroattiva nonostante che le norme di diritto processuali non prevedono la possibilità di una esplicita remissione in termini e vengo agli ultimi due aspetti che riguardano la preclusione qui sarò molto breve anche perché poi non vorrei entrare in terreni che non sono di mia competenza e che richiedono come dire il possesso di solide basi istituzionali voglio soffermarmi su due aspetti su due profili che riguardano il tema del giudicato cautelare e del giudicato esecutivo due parole su cosa sono il giudicato cautelare è quella situazione in forza della quale all'esito del procedimento di impugnazione le ordinanze in materia cautelare sono assistite a una stabilità relativa una stabilità rebus extantivus suscettibile di modificazioni per effetto dei nova o degli elementi sopravvenuti ma che comunque precludono ecco la preclusione la possibilità di reiterare le stesse le stesse diciamo questioni che sono già state oggetto del giudizio di impugnazione che sono state evidentemente decise in una determinata direzione ovviamente questo sappiamo che non vale laddove non siano stati esperiti i mezzi di impugnazione perché è sempre possibile all'interessato come la sentenza già la sentenza del 94 Buffa aveva previsto la possibilità di richiedere la revoca o la soluzione del provvedimento a norma dell'articolo 299 essendo due due vie due procedimenti autonomi e non interferenti bene il tema che questa sezione unita del 2011 ha proposto è un tema che debbo dire la verità sta tornando sta diventando di una certa attualità perché mi capita a meno nella realtà bolognese ed è riesame che è vicina anche dal punto di vista logistico all'ufficio dove lavoro di un incremento oserei quasi dire esponenziale di appelli del pubblico ministero su ordinanze reattive di misure cautelari si è assistito in questi ultimi anni ad un incremento dicevo significativo di appelli del pubblico ministero quindi di situazioni in cui il pubblico ministero reagisce come l'ordinamento ovviamente gli consente a fronte di provvedimenti negativi del giudice di prime cure cautelare del GIP bene il tema è cosa succede quando il pubblico ministero nel frattempo svolge ulteriori investigazioni nel 2004 la corte di Cassazione Sesi Uniti con la sentenza Donnelli aveva ritenuto che il pubblico facoltato il pubblico ministero a veicolare a introdurre quegli elementi sopravvenuti cioè le indagini che nel frattempo avesse ulteriormente svolto nel procedimento di Gravano il pubblico ministero aveva appellato contro l'ordinanza applicativa contro l'ordinanza di rigetto della misura e era stato ritenuto legittimato a presentare questi elementi nel giudizio di appello l'interpretazione che quella sentenza ne era seguita aveva fatto sì che si ritenesse precluso al pubblico ministero di formulare una nuova richiesta di misure cautelari depositando anche gli elementi di indagine nel frattempo svolti e questa soluzione per quanto la sentenza Donnelli del 2004 non l'avesse espressamente vietata nasceva da una sentenza delle Stazioni Unite molto famose molto applicate direi la sentenza Donati che aveva sostanzialmente individuato un nebissinidem anche nell'ipotesi di dispendenza cioè nell'ipotesi di pendenza davanti allo stesso ufficio di due procedimenti contro lo stessa persona e per lo stesso fatto individuando una situazione assimilabile a quella del giudizio civile nel 2011 la sentenza Testini muta orientamento e sostanzialmente argomenta questo mutamento che tra due secondi dirò in che cosa è consistito nell'osservare che in materia cautelare il bisinidem ha una sfera di operatività diversa rispetto al giudicato in senso proprio mentre il bisinidem 649 discende dall'identità di fatto e dall'identità di soggetto qui la Corte dice quando siamo in materia cautelare non bastano perché si possa ritenere diciamo operante il divieto del bisinidem perché occorre che vi sia identità anche di materiale istruttorio cioè di come dire di materiale raccolto ai fini della richiesta di misura cautelare quindi poiché in questi casi non c'è identità ecco che il pubblico ministero è facoltizzato sia a produrre gli elementi di indagine sopravvenuti che lui appunto abbia che il sufficio abbia acquisito nel giudizio di appello ma può anche autonomamente formulare una richiesta di nuova misura cautelare che non potrà essere dichiarata inammissibile da parte del giudice proprio perché non c'è il nebisidim perché gli elementi costitutivi cioè gli elementi i gravi indizi si fondano su elementi diversi rispetto a quelli originariamente fondanti una richiesta rigettata dal dal GIP ovviamente poiché eletta una via non dato un recurso ad altera ma se il pubblico ministero decide di richiedere una nuova misura cautelare automaticamente si estingue il giudizio di gravame presentato contro l'originario provvedo di ricerato voi vedete quindi come il pubblico ministero venga in nome di esigenze di pronta tutela della collettività la corte lo spiega espressamente viene lasciato libero di decidere cosa fare e la conseguenza non sono di poco momento perché voi sapete che se il pubblico ministero decide di coltivare il giudizio di appello l'esecuzione della misura sarà differita al momento in cui o decorono i temi per presentare il corso o il momento in cui la corte di cassazione rigetti l'eventuale ricorso dell'imputato se invece il pubblico ministero chiede una nuova misura cautelare al GIP e il GIP la concede l'esecuzione immediata quindi non è di secondo momento decidere quali delle due facoltà esegitare e quindi il pubblico ministero in questo senso viene come dire in qualche modo al pubblico ministero viene consentita una scelta che due strade che non sono esattamente che non portano esattamente allo stesso meta nello stesso tempo ultima cosa poi smetto e riguarda il giudicato esecutivo che cos'è il giudicato esecutivo il giudicato esecutivo è quella situazione nella quale viene preclusa una decisione in materia di esecuzione che si fondi sugli stessi sugli stessi argomenti sugli stessi elementi già valutati l'abbiamo l'articolo 666 secondo comma che ho già citato in precedenza quello che volevo sottolineare è una interessante sentenza delle stessioni del 2010 che ha ritenuto che il fatto nuovo o meglio dire che l'elemento nuovo che può giustificare la preclusione in materia esecutiva indicata l'articolo 666 possa consistere anche in un mutamento di giurisprudenza cosiddetto overruling anche se l'overruling non è esattamente questo ma chiamiamolo così per via di approssimazione siamo abituati a ragionare nel senso che io posso superare una preclusione in questo caso pensiamo una preclusione che possa riguardare la disciplina della continuazione piuttosto che l'indulto l'elemento nuovo che può giustificare una nuova istanza in sede di esecuzione può essere individuato nell'intervenuta normativa nella variazione della norma positiva oppure in un fatto storico nuovo si è sempre escluso che il mutamento di giurisprudenza possa costituire un fatto nuovo idoneo a come dire modificare una preclusione pensiamo alla giurisprudenza in materia di rinvio sappiamo che l'articolo 127 quarto com è ferma nel dire guardate che ancorché la giurisprudenza sia evoluta si modifichi ciò non può superare il principio di diritto che è stato affermato dalla Cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio bene la sentenza la sentenza Beschi del 2010 ha ritenuto che l'overrowning giurisprudenziale cioè il mutamento di giurisprudenza possa costituire un fatto nuovo suscettibile di vincere la preclusione costituita dal giudicato esecutivo il caso era molto semplice e si trattava dell'indulto relativo a condanne pronunciate all'estero e poi eseguite in Italia si era sempre ritenuto che non fossero condonabili le pene che erano state combinate a sentenze rese in stato straniero e poi esecutive in Italia nel 2008 la sezione unita cambia un orientamento e ritengono che sia condonabile anche queste pene il soggetto fa incidente di esecuzione per ottenere indulto e il giudice no perché è un mutamento di giurisprudenza quindi irrilevante e la questione approda alle sezioni unite che operano una lettura estensiva della che in questo caso rientra l'ex ministro dell'articolo 7 della convenzione europea dell'uomo laddove per diritto si deve intendere non solo il diritto di produzione diciamo parlamentare quindi il diritto di produzione formale ma anche la giurisprudenza ovviamente è chiaro qui il tributo alla concezione anglosassone quindi alla civil law proprio per questo la sezione unita laddove il mutamento di giurisprudenza sia un mutamento che sia equiparabile al diritto vivente quindi un mutamento significativo un mutamento non solo sostanzialmente ma significativo e duraturo attribuisce il valore di fonte del diritto anche all'intervento giurisprudenziale equiparando nell'ottica tipicamente comunitaria poi è vero che questo principio è stato per altri aspetti disatteso in un altro in un altro chiedo scusa volevo dire che questo principio è stato fatto valere anche da una sezione semplice la seconda sezione con la sentenza Merlo in materia cautelare la situazione riguardava il giudicato cautelare relativo alla non dissequestrabilità di un sequestro di un bene oggetto di sequestro per equivalente siccome prima della legge 190 si riteneva che non fosse nel 2012 che non fosse sequestraibile per equivalente il profitto del reato dopodiché la è intervenuta una sentenza delle Stazioni Unite che aveva appunto ritenuto non sequestrabile per equivalente al profitto del reato la Corte di Cassazione ha ritenuto idoneo a vincere la preclusione costituita dal giudicato cautelare questo mutamento di giurisprudenza consentendo quindi che il bene sequestrato potesse essere oggetto di sequestro questo perché aveva riconosciuto valore costitutivo di diritto alla sentenza delle Sezioni Unite ripeto diversa conclusione è stata dotata dalla Corte Costituzionale con la sentenza 230 del 2012 si trattava qui di un incidente di esecuzione per abolizio criminis dove veniva in considerazione quella sentenza delle Sezioni Unite che aveva il 2011 che aveva ritenuto insussistente il reato articolo 6 della legge Bossi-Fini quel reato che punisce la mancata di bisogno di documenti a seguito della nuova formulazione che prevedeva una congiunzione documenti di identità mi sembra e di permanenza mentre prima era sufficiente uno solo delle situazioni bene sulla base di questo mutamento interpretativo che aveva ritenuto non più sussistente quel reato che in precedenza invece era ritenuto sussistente era stata formulata questione di oggettività così nell'articolo 633 per violazione dell'articolo 117 nella parte in cui non prevedeva che non solo la legge successiva che abolisse il reato ma anche l'interpretazione della giurisprudenza che avesse lo stesso effetto potesse valere giustificare una revoca della sentenza ecco la Corte ha dichiarato infondata la questione dando un'interpretazione diversa dell'articolo 7 e negando valore retrattivo all'overlaning favorevole le considerazioni magari le riprendiamo dopo perché non voglio resta però ancora aperto questo problema cioè il problema dell'efficacia del mutamento di giurisprudenza quindi degli interventi di giurisprudenza in un contesto in cui inevitabilmente inevitabilmente in sede europea viene come dire attribuito valore costitutivo all'intervento giurisprudenziale soprattutto l'indomani della sentenza Merlo cioè della sentenza che ha consentito anche a una legge che interviene sulla pena di superare il giudicato ecco che il problema della come dire della sistemazione convenzionale del precedente giurisprudenziale è un problema che come dire resta ancora aperto e sul quale non è ancora detta l'ultima parola grazie 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 a dottor Ziroldi per questa approfondita e vasta relazione volete riposarvi cinque minuti perché è stata abbastanza densa e piena di problematiche ci riposiamo dieci minuti e poi diamo la parola al professor Mazz non allontanatevi però grazie Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.